Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio un video veramente fast fast, velocissimo perché in realtà ho già fatto due vlog su ste benedette cuffie. Ve le faccio un attimo vedere, sono le Cotion Itch 600 per chi mi segue avrà già visto sicuramente un video. Allora, come potete vedere nella parte destra o sinistra dipende come mettete, abbiamo la possibilità, no dovete metterle per forza di qua perché questo scende dall'altra parte non va, è praticamente il microfono, vedete, c'è la possibilità di alzarlo e abbassarlo in questo modo. Poi qui nella parte sopra in interno abbiamo la possibilità di avere una gommettina molto morbida, soffice che si adatta alla vostra testa così quando andate a calzarle calzano in maniera perfetta come potete vedere e nella parte destra e sinistra abbiamo un longarone che serve appunto per allargare o stringere le cuffie. Io so, ho il testone, nonostante ho il testone riescono a calzare bene, dopo vi parlo un po' di tutte le varie cuffiette. Qui c'è la scrittina Cotion Itch GS 600 come potete vedere, qui c'è un piccolo logo, sono anche belle esteticamente, sono delle cuffie da gaming, vi faccio vedere nel padiglione interno come praticamente è tutto in gomma, molto bello con questa retina qui da dove poi chiaramente esce l'audio, questi tasti che possono sembrare tasti in realtà non sono nulla perché qui non abbiamo altro che praticamente il microfono e tutti i controlli sono codiuvati praticamente in questo piccolo controller che tra l'altro ha anche un'uscita da jack da 3,5 perché? Perché praticamente queste hanno la possibilità, vedete, di collegarle tramite l'USB e il jack da 3,5 quindi con la PlayStation 4 per esempio come la utilizzo io, mettete il jack da 3,5, scusatemi, l'USB nella PS4 e poi come fate a collegare il controller? Qui praticamente vi è un ingresso jack da 3,5 e lo collegherete poi al vostro joystick oppure potete anche non collegarlo, collegate le cuffie direttamente in suo PS4 e funziona tranquillamente questo in realtà è per l'Xbox 360, ho sbagliato, è per l'Xbox 360 perché tra l'altro ho scoperto una cosa che se voi non li ha alimentato USB ma inserite questo direttamente nel controller funzionano lo stesso e devo dire che si sentono veramente bene ugualmente, forse un pelino meno ma tant'è andiamo a vedere un attimino cosa vi è all'interno della confezione ok ragazzi adesso andiamo a vedere un attimino cosa c'è all'interno della confezione che molti di voi avranno visto, ve la faccio vedere magari un attimino così potete trovarvi qualche dato se magari vi interessa, dietro abbiamo anche delle specifiche tecniche ve le inquadro in modo tale che magari ve le andate a vedere se vi possono interessare e all'interno della confezione troviamo Malonettino Cotunicci alla pagina 10 abbiamo l'italiano quindi sicuramente un valore aggiunto nella confezione cosa abbiamo? Abbiamo questo cavetto che praticamente è cavetto bianco, cavetto classico bianco e rosso con la femmina da 3,5 da questa parte vedete c'è la femmina da 3,5 e i due cavettini questi qui praticamente i classici cavettini che io vabbè non ho utilizzato perché utilizzo PS4 poi abbiamo all'interno sempre della confezione il cavettino 3,5-3,5 jack 3,5-3,5 per Xbox 360 e questo qui 3,5-2,5 vedete che è più piccolo? questo è più piccolo di quello ok? sempre contenuto all'interno della confezione non abbiamo nient'altro le cuffie io ragazzi le ho provate per circa un buon tre settimane e vi posso assicurare che sono delle cuffie ottime io avevo delle Tartle Beach P22 possibile vi posso assicurare che non c'è differenza di audio nel microfono mi sentono bene non ho problemi finalmente perché utilizzavo delle cuffie in ear da quelle del cellulare per intenderci le collegavo al joystick della PS3 della PS4 e funzionavano in realtà con queste cuffie potete collegarlo direttamente al controller di PS4 ma se le collegate come vi ho detto prima a USB e poi andate ad utilizzare le cuffie è molto meglio perché vengono anche alimentate ma ritornando al discorso di prima io con queste cuffie mi sto trovando davvero molto molto bene l'audio è veramente ben bilanciato i bassi sono corposi è molto forte quindi bisogna tirarlo giù un pelino e questo è difficile da trovare su cuffie cinesi perché di solito sono tutte sotto tono ovvero voi mettete tutto al massimo in realtà le cuffie non vanno invece con queste vi devo dire che funzionano bene poi anche la calzata è molto buona perché riesco anche io ad utilizzare nonostante io abbia un testone qui c'è il microfono che potete tirarlo giù potete tirarlo su vedete come calzano bene isolano davvero tanto non sento nulla fuori praticamente isolano tantissimo finestra aperta e col treno che passa non sento niente se mi suona il campanello che la porta è praticamente qua a due metri con Baft F4 faccio fatica veramente a sentirlo e poi una cosa molto bella che mi è piaciuta è la gommettina qua sopra che protegge all'inizio io credevo che non servisse a niente in realtà ragazzi serve perché vi rendo diciamo la giocata sicuramente migliore ma la cosa bella di queste cuffie che non vi ho detto e che vi metto il link in descrizione e costano davvero poco 23 euro incredibile ciao alla prossima